E per la 611 classe A per forme danza donna e performer danza appunto donna e uomo guarda un po' Garrison, i nostri giudici hanno deciso che non c'è nessuno a rappresentarla, la nostra giuria in questi giorni ha selezionato solo una di loro che in automatico è medaglia d'oro a rappresentare la 611 classe A per former danza donne, lei è Brigida Petruso e innanzitutto la chiamiamo con il lancio dalla nostra regia per questa classe categoria, grazie. Categoria 611 classe A per former danza donne, numero di gara 659 Brigida Petruso Grazie a tutti! 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501